SalvaMac Ciao a tutti, sono Cristian Salvador di SalvaMac c'è qualcosa di nuovo non c'è qualcosa di nuovo non c'è qualcosa di interessante come un offer per ottimizzare il soldo nel mercato da una longa esperienza di più di 20 anni possiamo offrire al mercato e qualcosa che può andare da un piccolo range di costruzione all'automazione e non solo abbiamo anche bus instruction e più e più per coprire tutti i clienti con l'ultima filosofia con la nuova filosofia con la nuova visione di Cristian Salvador di SalvaMac Grazie 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 Grazie